Tutto pronto per gli accusati fuori dai futani, gli accusati con la maglia viola e pandorgini bianchi, fuori dai futani con la maglia verde, bianco e nero. Il match è iniziato, il dettore di gara, il signor Sanzica Manuel di Safri. Tutto pronto per gli accusati fuori dai futani, gli accusati con la maglia viola e pandorgini bianchi, fuori dai futani con la maglia verde, bianco e nero. Il match è iniziato, il dettore di gara, il signor Sanzica Manuel di Safri. Ecco che si comincia con le accusati, è un'altra cosa che si chiara con Armida, Troccoli, Teres, Lamanna, Esposito, Variante, Pancev, Cetrangolo, Ruocco, Ruocco, Puglia, Armida, Gravina, Embiaco e Fedullo. E quindi questa punizione il portiere blocca sicuro e si effettua il passaggio con le mani, ancora fuori dai futani. Ancora Suscaimo intercetta, ciò c'è un'attenzione. Saber, per Saturno Lello, Nicolás non ci riesce, palla al portiere del futani che blocca la palla e si accinge a battere questa rimessa un po' molto corta. Ancora il futani con Pancev. Rimessa a lunga del portiere, tercetta Ciociano, Aldino, per Michele, 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 attenzione. Ancora Pancev, Pancev contrastato, palla fuori, rimessa per il Licosati. Messa battuta, Aldino. Ancora fuori dai futani qui. Ancora faiutani, il numero 10, Ruocco, ancora Vittorio, per Michele, Michele, Gianluca. Vittorio, vittorio contrastato, attenzione, vince il Teckel, palla avanti, palla fuori. Primessa per il foria a Futani, palla a Rocco. Palla al foria a Futani, per questo calcio di pulizione, lo batte il numero 4, la manna. La manna. guarda in aria, parte la manna. Vittorio, Vittorio spazza via. Attenzione, ancora fuori dai futani qui. Ancora fuori dai futani. Ancora Lello. Palla ancora al... Palla ancora al... Palla ancora al... Palla ancora al... Diamo di chi? Al... L'Icusati. Quindi rimessa laterale. ancora li cruzati qui ma la palla è nuovamente fuori quindi di mestre per il fuori ai futani questa battuta missione per il fuori ai futani eccolo qui variante che accetta al dino ma non ci riesce attenzione il tiro del fuori ai futani attenzione in area ancora rimessa per il fuori ai futani pronto manzo per la rimessa messa corta cercare michele aldino michele ora michele splendido in area dovrebbe essere fallo qui ma l'arbitro l'arbitro lascia scorrere e di rama un calcio un corner per il licusati tutti in area anche il portiere anche l'arbitro attenzione il portiere esce sul nostro attaccante sabarra ancora palla fuori rivessa per il liquus per il fuori ai futani già battuta via futani che si presta ad andare in avanti ancora futani intercetta vittorio gialluca saber intercetta il fuori ai futani attenzione in area c'è l'ello contrastato le va avanti attenzione scindille in campo tra il nostro dimensione l'ello e l'arbitro che lo ammonisce ha ammonito l'ello per proteste e intanto calcio d'angolo per il fuori ai futani eccolo qui corner in mezzo attenzione la rovesciata palla fuori mario palla palla tuffo ancora futani qui con puglia intercetta intercetta ciociano gialluca aldino ma intercetta pancia del fuori aiutare ancora futani puglia ma c'è ciociano saper gianluca ancora futani qui palla a cetrangolo contrastato ma stavolta secondo il direttore di gara fallo quindi ci sarà un calcio di punizione ecco che vincelli sistema con calma la barriera al fine di contrastare le vostre avversarie palla sulla palla si presume che ci sia puglia o rocco uno dei due batterà sicuramente rocco salve stretti punizione dal limite la ricordiamo molto infidiosa parte rocco traverso incredibile traverso incredibile pancia pancia calma 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 si rimessa del foglio ai futani laterale il abito lascia scordere questo fallo per i licusati ma intanto il fuori fuori état fuori fuori gioco se offside Lello batte questo offside a cercare Nicolás, Nicolás il portiere esce in anticipo con sicurezza Il portiere sbaglia la rimessa e regala la palla all'Icusati Ancora l'Icusati qui Togli in mezzo a cercare il portiere, ciòciano, ci prova, il portiere è sempre attento Il mio di Armida Ciocco Puglia 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 Attenzione Se ne vengono i Icusati, ciòciano, la palla, ciòciano, ciòciano, ciòciano Fa la viaggia Saper Per Michele che sbaglia Bravica Versa per il Foglia Futani Puglia Variante Ancora Rocco palla al folia futani panchev ancora panchev cellello qui rimessa battuta da vittorio ancora rimessa per il licusati ancora vittorio sulla palla Coraldino a cercare Saber Saber sulla palla Saber per Gianluca 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 Aldino l'arbitro che era un presunto offside per il verso il licusati quindi palla al folia futani Armida Michele pronto al rinvio Vio lungo e palla fuori smessa licusati con Saber c'è l'esimo controfallo da entrambi le parti e quindi sarà ancora palla al licusati Saber alla battuta Saber per Michele per Aldino Murato Vittorio ancora fuori a futani ancora vittorio ancora fuori a futani al dino vince il tekel ma c'è fallo la battuta veloce Nicolás ciao Gianluca Gianluca ancora Aldino splendido Vittorio a cercare Nicolás 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 vieni con la stessa a terra vediamo l'arbitro cosa farà l'arbitro richiama la panchina delle licusati per portare un po' di ghiaccio speriamo non sia nulla di grave per il nostro giocatore ma quanto vedo quanto sempre non si tratti nulla di grave non ci parlare non ci parlare sti imbecili i pezzi ci venivano a fare pure l'anno scusa non rubo il cazzo sei stante città non rubo i coglioni non ti ha chiesto nè che cazzo parla a fare il sceme di tu e quindi Nicolás sembra aversi rialzato sembra essersi rialzato però è fuori dal campo è fuori dal campo momentaneamente eccolo qui che le entra in campo quindi rimessa per i licusati con Vittorio 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 Gianluca 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 se passate così non servono se non c'è il litro che corre Gianluca spalla di nuovo al Floria Futani con Temes Lello Gianluca Michele Erciogiano per acercare Nicolás ma palla fuori ernesima rimessa per il licusati Nicolás Nicolás lotta ad Acciociano vittorio 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 e Aldino spalla fuori innesima rimessa dal fondo per le Fodafutani più alto c'è Luca vittorio vittorio non c'era stacca sarà stacca vedete che si è fatto uagli vedete che si è fatto c'è questo che sta zombato facciamo struzzare portate se là posto ehi la sai come facciamo minghiate ma ma tu te la stacca mi c'era eh c'è Luca su vittorio 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 il cazzo vittorio 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 l'acqua è buona ancora a futani contrasto per lui ancora a futani con rocco rocco spiazzarello con la palla è ancora ancora a futani ancora a futani qui troppo rocco ma non si è scemo veramente ma questo non lo fa la palla e questo e questo sono insieme per il refutare nella distanza non molto lontana dalla porta di vincelli i soliti o Rocco o Puglio saranno questi due calzeranno la punizione Rocco o Pollo fuori di un nulla rimessa per il l'Ikusati siamo al ventesimo momento del primo tempo ancora siamo sullo 0 a 0 tra l'Ikusati e Foglia e Foglia ancora Puglia rimessa l'Ikusati Gianluca ciao Gianluca Nicola Saldino Lello ancora fuori ai futani qui Lello contrasta ancora Aldino per Vittorio 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 Michele c'è un giocatore a terra del fuori ai futani hanno fatto uno scontro c'è stato uno scontro tra due giocatori della stessa squadra quello che ha fatto contrasto con è stato fatto un contrasto con il portiere ma non è nulla di grado si dipende subito il match rinvio di Armida con la Pancev rimessa di Vittorio per Michele 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 ancora Michele Vittorio per Nicola ma cosa si è mangiato a Porta Libera cosa si è mangiato un altro contrasto mi sembra un match pieno di Michele De Luca l'invito dal fondo per il fuori ai futani è pronto a Armida ancora futani Pance Rocco Pance ventottesimo minuto ancora 0-0 rimessa per il fuori ai futani questa per Vittorio Aldino 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 Gianluca Gianluca Ancora ancora le gustati con Nicola 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 e la rete 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 si gol 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 1-0 che signore vittorio gol di Vittorio pasquale 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 di luca gol di pasquale di luca 4-0 1-0 1-0 al 29esimo minuto alla mezza del primo tempo dopo la respinta a colpa di ermita pasquale mette in rete un gol facilissimo ed è 1-0 1-0 vamos ragazzi ancora Falea Futani ancora Falea Futani palla fuori vai così vai così ragazzi e muoviti messa per il Falea Futani con la manna la manna la manna la manna la manna cross in mezzo palla fuori non ha centrato neanche la porta la manna la manna è come se fossero un difensore ma sta già un po' più avanti non ti devi disimpegliare che la manna la manna la manna la manna se ti impari a fare questa funzione la manna può darsi poi la manna se pensi che la manna la manna la manna ciò ce l'ho a cercare di nuovo fuori gioco Nicola 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 bella eccolo qui Pasquale la torre del gol del vantaggio del Likusate Saber Nicola Nicola vai 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 Nicola Nicola splendido qui ancora in avanti ancora Futani e Futani qui scambio di gioco palla fuori Michele Aldino vedi che ha il pallone e sotto il pannello solano marco sull'anz famiglia c'è messa per il Frefutani Giorgio Giorgio per proteste Ancora insieme per Likusati la batte Ciociano Aldino per Gianluco per Vittorio la mette in mezzo attenzione Manzo 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 Vittorio ora Vittorio splendido che cazzo che cazzo fai che cazzo vittorio la mette in mezzo tu che cazzo che l'aveva affatto passato l'aveva affatto l'aveva ok che cazzo la vostra cuore Aldino percetta Temes che cazzo il L'aveva 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 ancora questa per il e vittorio con armita bello ancora Puglia Futani il portiere che stecca attenzione va bene ancora Futani qui Puglia è a terra Puglia resta a terra Puglia no coi numero gay che cazzo che non si deve girare attaccate qua che cazzo che non si deve girare attaccate qua che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo un po' di tensione in gambo 35esimo minuto del primo tempo 1-0 per il Lekusate fuori Futani torna la palla al Lekusate la palla in mano a Vincel il portiere del Lekusate per il Puglia si accendeva il Puglia e si accendeva il Puglia per il Puglia torniamo il numero 7 il numero 7 Panchev Ivano non ci è arrivato rimesso per il Lekusate Michele De Luca Vittorio ma sei un po' di coglione ma non ci è risultato ma venite una ponte da andare ma che è che ha passato la palla da te? che era passato? un po' di coglione anche lui ma venite la manza la manza il rinvio Manzo Francesco per il Lekusate c'è il rinvio Gaetano Giorgiano il rinvio lungo in avanti direttamente sul portiere armita dalla palla il numero 4 la manna fa uscire la palla rimesso per il Lekusate il rinvio sempre di Panchev fuori rimesso per il Lekusate Vittorio Saturno fallo di Pangev fallo di Pangev su Sagiomo del Lekusate il numero 4 Sagiomo Vittorio Saturno sulla palla terzino sinistro del Lekusate Saccingiallo ha battuto per il Lekusate il Gio il Lekusate il Lekusate e il Lekusate passare il Lekusate il Lekusate lontano va bene Vittorio, va bene una, una due grazie, grazie Ardo Saturno Ardo Saturno ha fuori due persone il terzo no rinunzione di saggiomo su Rocco Mattia un tiro vellutario di Valiante Nello distante dal palo di Vincenzo Vincenzo alla battuta si accinge Anze Manzo rinvio lungo e la l'arbitro è ma è l'alberto questa l'alberto dicono che l'ha presa con le mani l'arbitro non si è ravvedato l'alberto l'alberto piccolo saluta l'alberto 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 l'avvicinate l'avvicinate l'alberto numero 4 la battuta del Corriere Futane fermati fermati attaccati 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 fase combattuta al centrocampo l'invio di Saturno Vettorio direttamente sul portiere armita è infatti mettendo un infine erano scendolo le vittorio 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 taglia Croeso fuori, è messa per le gusate. Le vie di Vincenzo. Il 44esimo minuto del primo tempo, ultimo minuto, il gusate conduce per una rete a zero. Vediamo quanto recupera. Rinvio di Manzo. Guarda il roncio. Due minuti di recupero. Due minuti di recupero. Erdo! 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 Il portiere arriva a Darmina. Erdo! E' che te amo il capo sia, quattro! Per cento per i tanti, ti raggiungi! No, non è che per cento per cento! Ma cento per cento! No, grazie lui, cento per cento, compagno io, vede! Si, ti stanno andando a giù! E' mi lamentate lì, vi fanno uno, vi lamentare l'altro! Ma chi si stai lamentando lì? Io non parlo quattro! Mi manco tenimi, mi manco! Il via si Nicolasse. Nicolasse! E' sesso? armita al tiro l'ultimo minuto 1 è già passato l'ultimo minuto di recupero produzione per le forie futane ha munito pure Pasquale De Luca come cazzo qua? qui ci sta, senti ci ha dato calma attacca 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 funzione ancora per le forie futane la merda è giù di merda facciano i tuoi spogliatori muovi i tuoi spogliatori facciano i tuoi spogliatori facciano i tuoi spogliatori facciano i tuoi spogliatori Gaetano a zumba Gianluca a saltare Nicolás davanti al pallone Gianluca a saltare già sono due minuti e mezzo di recupero 30 secondi in più ora si gioca Pasquale vittorio 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 Allora si gioca, sono tre minuti di recupero e ancora l'albero si fa giocare, è cinciato invio Manzo Francesco, invio lungo, in questo momento l'albero si dichiara che è fine della partita, del primo tempo, adesso si vanno a prendere tutto un tè caldo e un saluto a tutti i telespettatori del Cusate Web e i paesani all'estero, ci risentiamo nel secondo tempo, da Giovacchino Cavaliere e da Gallo Giovanni. Incomincia il secondo tempo, fra il Cusate e il Foria Futane, palla al centro del Foria e direttamente sul portiere, ripeto il Foria con la maglietta verde e il pandoroggino nero, il Cusate con la maglietta viola e il pandoroggino bianco. Il risultato del primo tempo è il Cusate 1, Foria Futane 0. Nicolaz sulla palla, da Ciociano Catane che la c'entra subito in mezzo. Il Valiante è in crossa sul lato destro dove non c'è nessuno. Gira la palla sulla parte sinistra. Rossa al centro. Ingelle. Se c'entra il rinvio. Pallo di Temes. L'albero dice che deve fischiare lui, far ripetere la punizione. la punizione per il Cusate, se c'entra a battere il Gaetano, ciò c'è no. Il terzo minuto del secondo tempo. Le squadre sono solo 1 a 0 per il Cusate. ILY?". Guarda Federico qua, guarda Federico nel bisogno! Oh, Giallo, Giallo! Guarda Federico qua! Guarda Federico! Guarda, arriva, vi sali, sali, sali! Gioca lì, c'è pugna, c'è pugna! Pallo di Seggiome, sulla manna, Rocco Federico è sulla palla. Rocco Federico è sulla palla, produzione invitante. Tiro deboli sulle braccia di Vingelle. Vingelle si prepara la battuta, invio lungo. I giocatori delle forie futane fanno girare la palla. Giocala! 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 Er超! alla prossima si venga dalla trasmettita vertice più alto di cento d'alba centro sinistra come stavi giocando il primo tempo la prossima volta si per me mi fa piacere si riprende partita è stata un po ferma per l'invortunio di pancio del foria futani a settimo minuto del secondo tempo si riprende discesa di nicolasse sulla sinistra passa nicolasse nicolasse senza portiere ha buttato fuori la palla ma come ha fatto piano 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 pallo di mano di cetrangolo angelo l'albero dichiara la punizione per il lecusati sulla palla ci sono da età tutto pronto a 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 Funzione per i Lugusati, fallo su Michele Luca, fa l'opera di Cetrangolo sulla palla Gaetano Giocio. Non riesce a tenere la palla in campo con il colpo di testa di Esposito Angelo, il capitano del fuorifutato. Ma dov'hai tu? Ehi! Ma la luce ha appicciato. E poi come torna questo qua? Calcio d'angolo per i Lugusati. Sulla battuta Aldo Saturno, Aldo Saturno sulla battuta, grosso e basso. Qua di nuovo sui piedi di Aldo Saturno. C'è un giro di Lugusati, si impassa in un Univo di Baccia in un lusso flaccia. Vabbè, si impassa in un lusso flaccia in un'ottima battuta. Non c'è nulla! Chi ti ha impassa! Anc stunt! Non c'è nulla! Vai, non c'è nulla! Anculto, non c'è nulla! Non c'è nulla! Esadra! Ecco c'è nulla! Carcio! Faccio! Anculto! Ci sono scondriati tre e l'otto delle Lugusati. Michele De Luca che è Temes, mi ha fatto ginocchio a ginocchio, si rialza Temes, a terra ancora i giocatori del Lugusanti, 12esimo minuto del secondo tempo, 1-0 per il Lugusanti, 3-35esimo minuto di Pasquale De Luca. Si riprende con una battuta del numero 4 La Manna. Posizione belirli bu saat. RIVIO DI SATURNOLELLO. RIVIO DI SATURNOLELLO. RIVIO DI SATURNOLELLO. RIVIO DI SATURNOLELLO. Il messa di Vittorio 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 Saturno Vittorio Giacomo Vittorio 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 Il messa di Vittorio Il messa di Vittorio Il messa di Vittorio Giacomo Vittorio Scende sulla destra Calma, calma Vittorio Armita Michele a faccia a faccia Nicolás a faccia a faccia fuori fuori Nicolás vuole fatto le messe di armita su troccoli temesse su imbriaco imbriaco Giovanni si fa rubare la palla ecco di nuovo Caetano Giociano produzione contro l'albietro la data fuori a Futane rinvio lungo di produzione di temesse anzi di variante su Ciociano 30esimo minuto del secondo tempo 1-0 per il Lekusanti batte Ciociano sui piedi di Vittorio Vittorio Nicolás Gianluco tiro di Gianluco grandissima parata di armita tolta la palla da dentro bellissima parata calcio d'angolo per il Lekusanti va a battere Saturno Aldo ultimi 15 minuti di gara più giubbino batte Aldo Saturno attraverso il Lekusanti produzione su Manzo Francesco del numero 14 imbriaco Giovanni Giociano Caetano sulla palla ci sarà un altro cambio nel Lekusanti Giociano sali 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 non vincirate compigliatelo è buone è buone faccelo un culo torna 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 fuori gioco su Michele e De Luca nel via di Aremmita Michele Aldo Saturno è buone è buone calma andè Pasquale e De Luca ma fa fallo punizione per il fuori ai futani calma 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 ancora calma conditivo Michele e De Luca c'è diluco Sebbi Mario Mario villicell cambia Nelle fine dellekusanti esce Aldo Saturno ecco Mario qua all'inquadrato Mario Mario Aldo Saturno esce entra Saturno Giovanni Mastronato Michele De Luz l'invio adesso ci sarà remessa per il foroio a Futano per le cure di Rocco Federico stato travolto da Saturno Raffaele l'invio di Vincelle e Giacomo salta 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 bravo andate ma i gol non andate a Stavano ma i gol si faccia da parte a lei che succede? i serini si coppetono qua calma giallu vieni di una e la mano DICOLAS sei fuori in gioco un altro cambio un altro cambio nel file del foroio a Futano esce numero 8 entra il mister ermita con numero 18 e scopate in 10 questi numero 9 vieni vieni invia 8 ecco Michele e neanche adesso Nicolás ha buttato la palla dentro, aveva dato il vantaggio all'albero c'è c'è la droga Entrano Enzo e Torre 7 minuti alla fine Entrano Enzo e Torre Inesce Nicolás 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 Ciao, ciao, rinvio lungo del portiere Michele Armita rinvio lungo Delenlo fallo su Gaetano Ciociano ma l'arbitro non ravvede un po' d'acqua prima il gioco è fermo per soccorrere Gaetano Ciociano Siamo al 43esimo minuto, ci sarà il recupero si riprende il gioco, il 43esimo minuto del secondo tempo tornano la palla all'Icusati, i giocatori del forio futano sportivamente entra anche Ciociano Gaetano in campo il violonco di Giacomo Ginceno si combatte sulla fascia sinistra dove Michele e De Luca non riesci a trattenere la palla in campo batte Temes il numero 4 la manna le forio futane scendono cross al centro dove Lello Saturno svircola si continua i giocatori volevano un pallo di mano delle lecusate un pallo per il forio futane un pallo per il forio futane basta batte Fedullo Lorenzo il calcio tango e la punizione vicino c'è anche Troccoli che si allontano e fuori futane tutti in aria tutti in aria 45 minuti e 30 secondi nel secondo tempo punizione per il forio futane ecco l'almodro batte chiama il rinvio lungo delle cusate ancora ancora un tiro da lontano ma nulla di fatto ci sarà battuta di Giacomo Vengelle non ho visto il recupero che dato l'albero siamo già oltre il 46esimo minuto quattro minuti di recupero allora uno già è andato uno già è passato ma questo è l'egisto Grazie a tutti. Cinque minuti di recupero. Altro minuto di recupero ha dato l'albitro. Sono cinque adesso. Mancano tre minuti alla fine allora. Tre minuti allora. Calma, calma! A 23, non fa pazzo! Vai 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 vai! Con questa palla il l'accusante. Un fallaccio su... Fallaccio su Nunzio e Torre. E viene ammonito il portiere ermita. Lello, Lello! Lello! Bello! Bello! Ma che ho faccio questo c'è? Ma che ci fai a che non sto? Gomba! Gomba! 48esimo minuto e 15 secondi. Punizione per il Lugusato. Tutto pronto per l'abbattuto. L'ultimo secondo dei 5 minuti devo andare. Tira Giorgiano Caetano in braccia al portiere Ermita. In via lungo del portiere. Il numero 5 delle accusate ha preso un colpo. Manzo Francesca a terra. 49 minuti e 30 secondi. 4 minuti e mezzo. Alte 30 secondi di gioco. Alte 30 secondi di gioco. Premessa delle accusate. Tornano la palla fuori a futare. Ecco che si incomincia a giocare. In via lungo. In via lungo su Venzo e Torre. Si scende. E' finito i 5 minuti di recupero. Ancora si gioca. In questo momento l'arbitro dichiara fine della partita. Dopo 5 minuti di recupero. E' l'arbitro dichiara fine dell'ostalità. E' l'arbitro San Sica di Sabre. Allora le accusate batte fuori a futane per una rete a zero. Signore e signori telespettatori di le accusate web tv. Alla prossima. Dal campo sportivo proprio Giovanni di Camarota. Un buonasera da Giovacchino Cavaliere. A presto.